Santa Chiara Lab, Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Ricerca, Via Valdimontone, 1, Siena. Il Santa Chiara Lab è un progetto strategico identitario dell'Università di Siena, uno spazio laboratoriale, espositivo e di dialogo finalizzato all'acquisizione di competenze trasversali, soft skills, e digitali, digital skills. Il centro non è aperto al pubblico, vi si accede solo autorizzati o su appuntamento, accesso condizionato, accesso all'edificio. L'ingresso principale presenta una rampa in leggera salita, la porta d'accesso di larghezza adeguata a un'apertura a molla. Per accedere è necessario suonare il campanello posizionato a destro della porta ad un'altezza di 140 cm. Non c'è la possibilità di parcheggio ma c'è comunque spazio per la fermata. Ascensori. L'ascensore è a norma, la pulsantiera non presenta caratteri braille, nel centro Santa Chiara hanno sede, centro di servizio di Ateneo Santa Chiara Lab, il laboratorio Fab Lab, divisione terza missione, placement office career service, accesso alle aule. Al piano zero si trova la portineria con bancone con sezione ribassata, lungo il corridoio si trovano una sala riunioni ed alcuni uffici, proseguendo si trova lo showroom, tutti gli ambienti sono accessibili. Agli altri ambienti si accede attraverso un corridoio a sinistra della porta d'ingresso, lungo il corridoio si incontrano alcune porte di vetro senza maniglioni, difficili da manovrare in autonomia. Lungo il corridoio si incontrano il Fab Lab, il laboratorio tecnologico, la sala Cantucci, la meeting room, che presenta due entrate su due livelli differenti, ed infine si arriva al placement office, career service. Il placement si presenta strutturato su due livelli collegati da rampa interna, all'entrata si trova il front office con tavoli e sedie, scendendo ci sono altri uffici per accogliere gli studenti. È presente anche il servizio di ascolto e consulenza, vi si accede solo su appuntamento. Ai piani uno e due i locali sono in ristrutturazione, quindi non agibili. Servizi igienici dedicati. Al piano zero è presente un bagno, confort degli ambienti. Le porte delle aule sono di larghezza adeguata e manovrabili, buona l'illuminazione naturale artificiale. È presente un adeguato impianto di condizionamento, le diverse rampe sono di materiale e larghezza adeguate. Progetto di segnaletica. Sono presenti alcune targhe ad alta leggibilità, con caratteri a rilievo, scritte braille e ottimo contrasto cromatico, alle porte degli uffici o delle aule, risultato di una progettazione condivisa tra il Santa Chiara Lab, l'ufficio tecnico e l'ufficio accoglienza disabili e servizi di SA, tecnologie, apparecchiature. Il Fab Lab è un laboratorio, che offre servizi di fabbricazione digitale. Sono presenti macchinari quali, taglio laser, stampa 3D, plotter da taglio, fresa CNC, scansione 3D, custom PCB design, accessibilità delle pagine web. Il sito del Santa Chiara Lab risulta accessibile, con info testuali e numerosi percorsi che consentono di nuoversi agilmente tra le pagine. Riferimenti e contatti presenti in ogni pagina.